Toro, grande partita, sei andato anche in doppia cifra, tutto perfetto? Sì, sì, tutto perfetto. Abbiamo vinto, che era lo che volevamo fare, una squadra tosta, bene evento, che ti viene addosso, che è molto fisica e oggi dobbiamo avere botto, dobbiamo avere quella pazienza per fare il possesso palla e cercare del spazio. Lo abbiamo trovato perché loro si abbassano e nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche gol, però dopo abbiamo ripreso il secondo tempo e abbiamo chiuso la partita bene. Ti abbiamo visto bello carico sull'esultanza, ti mancava un po' il gol? Sì, anche in campo. Oggi ci teneva tanto perché dovevo fare gol, c'erano tante giornate che non lo trovavo e niente, sono contento perché l'Inter ha vinto. Adesso arriva la Juventus, niente male, no? No, no, sono contento perché a me quella partita mi piace giocare, mi piace giocare perché loro sono una squadra forte e sempre è una misura buona per noi. L'abbiamo dimostrato in campionato, oggi lo dobbiamo affrontare in Coppa Italia, in una semifinale, quello dice tutto. La semifinale con il simbolo Inter dice tutto, quindi niente, dobbiamo affrontare la partita come si deve. Ciao Andrea, oggi non era facile, il Benevento è la sorpresa del campionato anche per te, comunque chiamato in causa dopo tante partite, ma noi questa differenza non l'abbiamo vista. Sei entrato subito in campo carico, non hai spiegato nulla. Sì, sì, ma cerco di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato. Ci alleniamo molto, sia chi gioca che chi non gioca, si allenano molto per essere pronto quando viene chiamato in causa e dobbiamo continuare così. Adesso abbiamo tante partite, ma abbiamo tanti giocatori che stanno bene e dobbiamo continuare a vincere. Mi ha colpito molto il fatto che anche dopo il 4-0 non vi siete mai fermati. Dentro di voi c'è la voglia di fare sempre meglio, di non fermarvi anche quando sembra chiusa la partita, però continuate sempre a giocare. Sì, perché dobbiamo costruire, stiamo costruendo una mentalità che dobbiamo essere attaccati fino alla fine, dall'inizio della partita fino alla fine. Non possiamo distrarci un secondo sia sullo 0-0 che quando perdiamo che quando vinciamo, quindi è fondamentale per arrivare in fondo alle competizioni. Questa era soltanto una tappa di tantissime partite ravvicinate che ci aspettano da qui, praticamente fino alla fine di febbraio. Ecco, cosa pensi di questo Tour de Force? Sono tante partite, ma vuol dire che abbiamo ancora obiettivi, quindi da un lato è penalizzante, dall'altro è importante perché siamo in corsa per due obiettivi. Abbiamo tanti giocatori che stanno bene, quindi non sarà un problema, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Martedì c'è una sfida che non è mai come tutte le altre. No, no, con la Juventus è sempre una partita particolare, ma abbiamo dimostrato che stiamo bene e andiamo a giocarci il passaggio del turno. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.